E adesso vorrei che lentamente incominciasse a seguire la batteria con le mani Ok, 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 il 10-100, il 10-100, lo smettete? Chi smette non trova fino a 2.018, lo dico sempre? Ossia come è un 10-100! Non smettete, non smettete, bravo, ricordate che il battere le mani fa aumentare il battito del cuore, le pulsazioni nervose, il spermatozoio, tutto, il battito delle mani e dita, sì, 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 che no? Adesso direi che sì, io possiamo dargli un po' di puligine, scassa di Dio! Ok, ok, ci siamo, ci siamo! Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.